Gentili telespettatori, buona giornata. Ecco di cosa hanno parlato Giorgia Meloni e Joe Biden nell'incontro A2 che c'è stato in Puglia al G7. Si sarebbe concentrato sul sostegno a Kiev. I due leader hanno parlato anche di Gaza, dell'importanza di raggiungere un cessate il fuoco, anche con la collaborazione di Hamas. Quindi si sono concentrati sulle crisi internazionali. D'altronde di che cosa avrebbero dovuto parlare? Delle vacanze che facevano al mare i due? Ovviamente che no. I temi più importanti sono questi. E che temi importanti? Si rischia l'apocalisse nucleare. Il faccia a faccia è durato poco più di mezz'ora, dicono i due staff. Il punto centrale è proprio Kiev, l'Ucraina. La Casa Bianca ha sottolineato che i due hanno toccato una serie di questioni vitali di sicurezza economica e regionali. Biden ha elogiato il primo ministro per il fermo sostegno dell'Italia all'Ucraina, mentre continua a difendersi dalla brutale guerra di aggressione. E poi compresa l'importante assistenza alla sicurezza da parte dell'Italia, quindi sistemi di difesa che l'Italia fornisce. E poi si è parlato nel senso che il dibattito sul G7 è stato incentrato sulle tensioni con Macron, che è in materia di interruzione volontaria di gravidanza, il contributo militare all'Ucraina. Il primo accordo sostanziale arrivato dal summit è proprio quello sui fondi russi congelati, da utilizzare anche in sostegno a Kiev. Infatti Biden e Meloni hanno entrambi accolto con favore l'impegno unanime dei leader di fornire 50 miliardi di dollari di sostegno finanziario aggiuntivo, che sono praticamente 45 miliardi di euro. Utilizzando i proventi dei beni sovrani russi immobilizzati, quindi i soldi dei russi contro i russi, i leader hanno poi concordato di continuare a perseguire tutte le opzioni disponibili per imporre ulteriori costi alla Russia e a quelli che la sostengono. Nelle settimane precedenti Francia, Germania e Stati Uniti avevano intenzione di autorizzare l'esercito ucraino a usare le loro armi anche in territorio russo. Paesi come l'Italia invece rifiutavano questa opzione. Il tema sembra non essere stato toccato in questo bilaterale. Hanno parlato degli sforzi per rafforzare la sicurezza economica e reciproca e poi alla coercizione economica. Dare una risposta a questa è l'importanza del commercio e degli investimenti bilaterali per migliorare la prosperità economica. Poi si parla di Gaza ribadendo il comune impegno per un accordo complessivo per la fine delle ostilità, la liberazione degli ostaggi e il rafforzamento del sostegno umanitario alla popolazione civile. Entrambi i leader hanno parlato dell'urgente necessità di garantire un accordo sugli ostaggi e il cessate il fuoco, sempre che a massa adotti un approccio costruttivo a tale processo. L'approccio costruttivo è un po' così, sui generis. ma poi c'è stato anche il gelo Meloni-Macron alla cena e secondo quello che riporta qualche giornale la Rai poi fa sparire le immagini dove la Meloni fulmina con lo sguardo. Macron. Io ho visto il video e realmente arriva Macron, saluta il Presidente della Repubblica, poi si gira verso Meloni che lo guarda e lo fissa in maniera glaciale. Lui la saluta, fa il baciamano e Meloni continua a fissarlo con questo sguardo così. Quindi veramente uno sguardo che non avevo mai visto della Premier, uno sguardo molto duro proprio perché in questi giorni Macron dopo la vittoria, chiamiamola così, delle destre in Francia, le elezioni anticipate. Macron vuole dire al suo paese attenzione perché se noi andiamo su governi di destra in Francia si finisce come in Italia. Quindi lui vuole far capire che se facciamo governare le penne soci qua finiamo come l'Italia. Solo che non sa come dire finiamo come l'Italia perché il paragone sarebbe un buon paragone. In Italia non è come in Ungheria, non siamo da Orban, siamo in una democrazia tranquilla direi. Pertanto lui ha tirato fuori la cosa che la legge 194 non era, non se ne parlava al G7. Quindi ha cercato di fare propaganda elettorale per lui per le prossime elezioni dove lui vuole tornare al potere. Naturalmente è anche comprensibile che la destra sia avanzata in Francia perché Macron ha proposto di inviare i militari militari a Kiev e il 70% se non di più dei francesi è totalmente contrario. E pertanto se lui fa questa dichiarazione a pochi giorni dall'elezione europea è ovvio che poi vincono gli altri perché nessuno vuole essere mandato da un tizio in giacca e cravatta essere mandato al fronte. Non credo che i francesi vogliono andare a combattere. Mi sembra una cosa decisamente assurda anche solo da pensare. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Ricordatevi che poi c'è anche Teleitalia Seconda Rete dove trovate video di politica, di notizie, di fai da te. Poi video di Teleitalia e Teleitalia Seconda Rete sono poi condivisi su Facebook, X, che era Twitter, su LinkedIn e su Triads. Ci vediamo a questo punto per la rassegna stampa domani mattina. Io per il momento vi saluto, vi auguro buon proseguimento di giornata, di venerdì e ci vediamo presto. Grazie.